Da oggi i Vigili del Fuoco di Pistoia hanno tre e nove torri faro. L'attrezzatura determinante per operazioni di soccorso effettuata in notturna è stata donata dall'azienda pistoese Lady Sound, che già tre anni fa aveva donato un'altra torre al corpo dei Vigili del Fuoco. Queste torri faro sono tre, si vanno ad aggiungere a un'altra torre faro che avevamo già in dotazione, diventano quattro. In questo modo noi le distribuiremo sul territorio nei nostri altri distaccamenti, quindi Montecatini-Pesce-San Marcello, in modo tale che avremo questi mezzi più prossimi al territorio, fermo restando che il comando provinciale è uno. Ringraziamo la ditta, proprio la Lady Sound, che ha voluto effettuare questa donazione. Che tipo di azienda siete e come mai proprio le torri faro? Le torri faro perché prima l'azienda si chiamava Metal Jelly, purtroppo non è andata come doveva andare e è stata chiusa. Ci occupavamo di riparazioni sulla sicurezza, avevamo anche i Vigili del Fuoco come clienti. Adesso la nuova azienda si occupa di diffusori audio, accessori audio, vestrucci per sapere come si trovavano. Le dettorie dicevano molto bene e ce la scambiamo in quattro comandi. Ho pensato immediatamente che un comando che non ha una torre non può fare emergenza, non può fare... e abbiamo deciso di donarne tre, altre tre, così da completare ogni comando la sua. Queste sono delle torri faro che vengono impiegate in supporto delle squadre per creare in contesti un po' più complessi un'uniformità di gradiente luminotecnico che possa consentire di operare in condizioni di silenzia sicuramente molto più consome a cui si occupano gli scenari. In modo sostanza queste torri faro hanno delle lampade a basso consumo a LED, quattro colpi luminanti a LED che consentono una copertura a 360 gradi degli scenari che possono essere portati dove il mezzo non arriva. È sempre bello vedere l'attenzione dei cittadini e delle aziende al vostro corpo. Fa veramente grande soddisfazione perché anche le aziende riconoscono che effettivamente in qualche modo aiutare o perlomeno fornire delle attrezzature particolari perché questa è un'attrezzatura particolare, ovviamente va a vantaggio di tutti, non solo delle aziende stesse ma di tutti i cittadini.